Sala Consiglina Sanza, Fondi Prevenzione e Rischio Sismico, pubblicato il Bando. Sala Consiglina Sabato 19, l'Onorevole Carfagna incontra i cittadini in vista del referendum. Parco Nazionale Cilento Valodidiano e Alburni, il coordinamento USB critica lente per la situazione di stallo. Sant'Arsenio all'ITC Sacco e Isaia Sales per parlare di storia delle mafie. Calcio, pollesi fuori dalla Coppa, sconfitta anche al ritorno. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. Il Vallo Didiano è stato inserito dalla Protezione Civile Nazionale tra le aree a maggiore rischio dal punto di vista sismico e per cercare di prevenire e di ridurre al massimo le conseguenze derivanti dal sisma che alla Regione Campania sono stati assegnati i fondi per l'adeguamento sismico degli edifici a rischio. I comuni di Sanza e Sala Consilina tra i primi a pubblicare sul sito istituzionale l'adesione all'iniziativa regionale della protezione civile per adeguamento sismico e rafforzamento delle strutture esistenti. I due comuni valdianesi sono stati inseriti tra i territori che presentano rischi sismici elevati. Pertanto sono destinatari di fondi dalla Regione Campania in riferimento alla ripartizione prevista dalla stessa protezione civile per i fondi in cui l'ente regionale è destinatario. Circa 123 milioni di euro ripartiti in sette annualità con ulteriori fondi assegnati negli anni successivi sono a disposizione dei cittadini campani che vivono o lavorano in strutture che necessitano di adeguamento sismico. A tal proposito l'amministrazione comunale di Sala Consilina e l'amministrazione comunale di Sanza rientrando nell'elenco dei comuni ad alto rischio sismico ed essendo quindi destinatari dell'erogazione dei fondi ciascuno per un importo superiore ai 3 milioni e 500 mila euro hanno nei giorni scorsi pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti da inserire nella graduatoria regionale. A poter partecipare al bando sono coloro che vivono stabilmente in strutture ed edifici che necessitano di lavori di adeguamento strutturale antisismico e che non sono beneficiari di altri fondi di uguale natura o similari. Inoltre il bando è aperto anche per chi ha la propria attività in edificio per il quale si richiede il finanziamento. Sull'avviso pubblicato sui siti istituzionali dei comuni di riferimento sono anche segnalate le istanze che non possono essere ammesse a finanziamento. Sono infatti esclusi ad esempio richieste di intervento su ruderi o comunque che risultano abbandonate così come non possono essere ammesse a finanziamento opere destinate a sole pertinenze. Sono invece opere finanziabili, si legge negli avvisi, opere relativi ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione destinate unicamente alle parti strutturali tenendo distinte quelle che rientrano nella soglia massima del contributo concesso da quelle eccedenti. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 16 gennaio 2017. Sarà cura dell'ente comunale e dell'ufficio competente e trasmettere la documentazione presentata dai cittadini richiedenti alla Regione Campania per la valutazione della richiesta. Tutte le informazioni relative e la relativa documentazione necessaria con i modelli da compilare sono scaricabili e visionabili sui siti internet dei comuni di Sanze e Sala Consilina. I fondi saranno ripartiti fino ad esaurimento. Andiamo ora a Sala Consilina e parliamo del referendum sabato prossimo 19 novembre nell'ambito dell'organizzazione dell'evento per promuovere il no all'acquisito referendario del prossimo 4 dicembre organizzato dal vice coordinatore provinciale di Forza Italia Valentino Di Brizzi sarà presente al convegno anche l'onorevole Mara Carfagna. Forza Italia nel Vallo di Diano per sostenere le ragioni del no al prossimo referendum del 4 dicembre. Sabato prossimo 19 novembre il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Valentino Di Brizzi accoglierà l'onorevole Mara Carfagna portavoce alla Camera dei Deputati per il partito di Silvio Berlusconi presso la Olamagna delle scuole elementari di Via Matteotti a Sala Consilina in un incontro pubblico finalizzato a spiegare le ragioni di un diniego alla prossima riforma della Costituzione italiana così come è concepita dal ministro per le riforme Boschi e dal premier Renzi. L'appuntamento io voto no avrà inizio alle ore 17.30 e vedrà gli interventi oltre che del vice coordinatore provinciale Valentino Di Brizzi anche del senatore Enzo Fasano coordinatore provinciale per Forza Italia e naturalmente dell'onorevole Mara Carfagna. Forza Italia, ha spiegato Di Brizzi, è costantemente impegnata nello spiegare ai cittadini perché è necessario andare a votare e perché riteniamo che si debba votare no al referendum del prossimo 4 dicembre. Ci auguriamo che questo referendum, prosegue Di Brizzi, che è sempre uno strumento di democrazia possa dimostrare come gli italiani hanno voglia di riprendere in mano le redini del nostro Paese. Un Paese, lo ricordiamo, che sta affrontando il cambiamento di una carta costituzionale nata da una valutazione condivisa dei nostri padri costituenti che certamente necessita di riforme ma che non può essere riformata da un governo senza la condivisione, non dico della totalità, ma perlomeno della stragrande maggioranza del Parlamento. Da un governo, poi, insiste Di Brizzi, neppure eletto dal popolo, ma sostenuto da parlamentari che pur di rimanere in carica hanno scelto, a discapito della volontà di chi li ha eletti, di cambiare casacca. Per spiegare questo e molto altro ancora, sabato prossimo avremo l'onore di avere tra noi l'onorevole Mara Carfagna, continua Di Brizzi, che seppur oberata di impegni, sempre legate alla campagna di informazione per il referendum, non ha voluto mancare ancora una volta di essere presente nel Vallo di Diano. Sono grato, all'onorevole Carfagna, conclude Di Brizzi, per l'impegno e la dedizione che emette nella sua attività politica, facendo sempre da stimolo a tutti noi a difendere i valori della libertà e della democrazia che sono il fondamento del nostro partito. Mi auguro di poter avere sabato prossimo la massima affluenza possibile al nostro incontro, così da poter utilizzare quel pomeriggio per meglio chiarire i dubbi alla nostra gente. Ed ora la cronaca, un 31enne di Montanantilia è agli arresti domiciliari accusato di stalking, ma scopriamo i dettagli nel servizio. Perseguitava una giovane donna, la seguiva e andava nei luoghi frequentati dalla stessa, proprio a partire dalle denunce fatte dalla ragazza ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, in particolar modo ai militari della stazione di Laurito sotto la guida del maresciallo Francesco Benevento, che sono partite le indagini e nella giornata di ieri i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nei confronti di un uomo originario di Vallo della Lucania, ma residente a Montano Antilia, classe 1985, ritenuto responsabile del reato di stalking. Il 31enne, nonostante fosse già stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima emessa dalla stessa Procura su richiesta della stazione locale dei Carabinieri, ha continuato a pedinarla in diverse occasioni, assumendo ogni volta ambigui atteggiamenti. E proprio a seguito degli elementi raccolti dai Carabinieri di Laurito e immediatamente riportati all'attenzione dell'autorità giudiziaria, quest'ultima ha emesso nella giornata di ieri l'ordinanza di sottoposizione dello stesso agli arresti domiciliari. Svoltiamo e parliamo ora di sanità. L'ultimo atto aziendale dell'ASL di Salerno ha previsto un deciso ridimensionamento per quanto riguarda l'ospedale civile di Irocca d'Aspiti a soltanto 20 posti letto. A difesa dell'ospedale si è costituito un comitato civico che ha indetto per sabato prossimo un corteo di protesta. Grido d'allarme a difesa dell'ospedale di Rocca d'Aspiti, l'ultimo atto aziendale dell'ASL di Salerno che dovrebbe essere a breve approvato dal commissario per la sanità in Campania, Josef Polimeni, è sul punto di decretare un netto ridimensionamento per l'ospedale di Rocca d'Aspiti che serve una popolazione di oltre 50.000 persone con i comuni degli Alburni e della Valle del Calore che si ritroverebbero senza un presidio sanitario in un'area decisamente marginale, senza considerare le ormai note difficoltà di viabilità che devono far fronte. Per far sentire la propria voce e far giungere le istanze del territorio anche nelle sedi centrali della politica, è nato nelle scorse settimane un comitato a sostegno della sanità. Il comitato civico pro ospedale di Rocca d'Aspiti ha deciso di indire per il prossimo sabato 19 novembre a partire dalle ore 10 del mattino un corteo di protesta pacifico per dire no allo scippo più ingiusto e doloroso della sua storia secolare. Con questo appello pubblico, fanno sapere dal comitato, intendiamo far sapere a tutti dello scippo che la mala politica sta tentando di perpetrare il nostro danno e sotto i nostri occhi. L'ospedale civile di Rocca d'Aspide, unico baluardo pubblico a difesa della vita e della salute dei 54.000 residenti dei 24 comuni della Valle del Calore salernitano, dopo gli ultimi provvedimenti amministrativi del commissario Polimeni, dei vertici della Giunta regionale e del direttore generale dell'Asle di Salerno, rischia la definitiva chiusura e la fuoriuscita da tutte le reti dell'emergenza sanitaria regionale e sarà l'unico ospedale in tutta la provincia di Salerno a subire questo violento, ingiustificato e incomprensibile trattamento. In base agli ultimi provvedimenti del Governo nazionale e del commissario di governo, si legge ancora nel manifesto di protesta del comitato, per il rientro del disavanzo sanitario di regione Campania, la struttura ospedaliera di Rocca d'Aspide, dagli attuali 70 posti letto e con unità operative di eccellenza, sarà trasformato in punto di primo accesso in deroga con soli 20 posti letto di medicina generale. Una sorta infame quella prefigurata dal commissario di governo per il nostro presidio ospedaliero. Noi, sottolineano con forza dal comitato, non siamo cittadini di serie B, noi paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini d'Italia, noi non siamo affatto disposti a tollerare un'ingiustizia che non ha alcun fondamento giuridico, umano, sociale, economico e civile. Pertanto ci appelliamo alla sensibilità dell'intera comunità, al senso di responsabilità, di solidarietà sociale e di appartenenza ad un territorio già profondamente martoriato, offeso ed oltraggiato nel corso degli ultimi decenni. Questa volta, concludono amareggiati, l'offesa proveniente da Stato e Regione Campania potrebbe rappresentare la morte civile definitiva di un intero comprensorio. Per tali ragioni dobbiamo svegliarci e mobilitarci per difendere quello che è un sacrosanto diritto nostro sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il corteo di protesta indetto dal Comitato Prospedale Civile di Roccadaspide, Valle del Calore, attraverserà il centro cittadino di Roccadaspide. Andiamo avanti, nonostante i buoni propositi dei nuovi vertici del Parco Nazionale del Cilento, Valolidiano e Alburni, continua a vivere una situazione di stallo e quanto sostiene e lamenta il coordinamento dell'Unione Sindacale di Base e Federazione Provinciale di Salerno in un comunicato stampa. Da poco il Senato ha dato il via libera alla legge di riforma dei parchi e le critiche che si sono levate da più parti non sono poche, temendo che queste realtà possano ridursi a mera risorsa economica, trascurandone peculiarità e potenzialità, acquendo la crisi che le aree protette stanno già vivendo. Anche il coordinamento dell'Unione Sindacale di Base polemizza con il Parco Nazionale del Cilento, Valolidiano e Alburni per la situazione di stallo che sta vivendo. Evidenziando come dal 3 maggio, data della conferenza stampa di insediamento del neopresidente Tommaso Pellegrino ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma nonostante la buona volontà tutto sembra ancora ingessato. Un territorio, si legge nel comunicato, ostaggio di svariate categorie di soggetti, spesso in contrapposizione tra loro, come i cacciatori e gli ambientalisti, gli imprenditori e gli agricoltori, le opposte forze e fazioni politiche. Tra le esigenze di tutela ambientale, così come previsto dalla legge quadro sulle aree protette e le richieste di eliminazione dei vincoli stabiliti dal piano del parco, lo sviluppo del territorio resta una chimera, tant'è che nonostante i finanziamenti europei arrivati a spesi, la disoccupazione costringe ancora troppi giovani ad emigrare. Segno questo che c'è qualcosa che non va e che forse un bilancio sociale aiuterebbe a capire meglio. Continuano dal coordinamento, sottolineando come in molti equiparano lo sviluppo alla costruzione di nuovi edifici, impianti produttivi ed opere pubbliche, ma oggi più che mai occorre porsi questo interrogativo. A cosa servono i contenitori vuoti? Cosa differenzia un'area protetta da un altro territorio? Per risolvere questa situazione, il sindacato cerca anche di indicare la direzione da seguire. Vale a dire che il reale sviluppo di un parco consiste nell'utilizzazione sostenibile delle risorse esistenti, garantendo forme di occupazione stabili nel tempo. Ciò spetta all'istituzione parco e al suo consiglio direttivo, ma anche al neodirigente facente funzioni Giovanni Ciao, che dovrebbe tradurre in azioni concrete gli indirizzi politici. Per raggiungere qualunque obiettivo, conclude il coordinamento, occorrerebbe ripartire dalle risorse umane, una riorganizzazione del personale interno, partnership con associazioni e cooperative giovanili, potenziamento delle guide del parco, dare opportunità ai giovani ricercatori, riempire musei, strutture ricettive e centri di visita di contenuti, affidandole ai giovani locali meritevoli e capaci. Questo e tanto altro ancora potrebbe fare la differenza. In vista della giornata contro la violenza sulle donne, in programma lunedì, a Polla sarà inaugurato lo sportello Diana, donne in ascolto, nonché in aiuto, promosso dal comitato Senonora Quando. Dopo le panchine rosse presenti in tutti i comuni valdianesi, a breve il Vallo di Diano avrà anche un nuovo centro di ascolto a sostegno delle donne vittime di violenza. Nei giorni scorsi, le amministratrici di tutti i comuni del Vallo di Diano hanno aderito in massa alla proposta lanciata dal Centro Antiviolenza Artusa con il patrocinio del Piano Sociale di Zona S10, iniziativa promossa in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il prossimo 25 novembre e armandosi di vernice e pennello hanno ridipinto una panchina del centro cittadino di colore rosso sangue per ricordare tutte quelle donne che hanno perso la vita o che comunque sono rimaste menomate a causa delle violenze subite, purtroppo nella maggior parte dei casi, dai loro partner. Il comitato Senonora Quando, Vallo di Diano, con le referenti Maddalena Robustelli e Rosi Pepe attivano ora una nuova iniziativa, avvolta per lo più a far sì che casi del genere che purtroppo investono anche le nostre piccole comunità non si verifichino più e per cercare di intervenire prima che sia troppo tardi e prima che ci si ritrovi costrette a piangere l'ennesima vittima di violenza. L'iniziativa consiste nell'apertura di uno sportello di ascolto denominato Diana, donne in ascolto nonché aiuto, che sarà inaugurato alle ore 17 di lunedì prossimo, 21 novembre, a Polla, in Via Loreti. Lo sportello vuole essere un aiuto ed un sostegno per tutte quelle donne che si ritrovano a dover subire violenza dei propri compagni. Violenze a cui non riescono a sfuggire, forse per paura di possibili percussioni o perché si sentono sole nell'affrontare il dramma. In loro aiuto arriva ora il comitato se non ora quando Vallo di Diano con lo sportello Diana, dove troveranno un esperto che potrà aiutarli ad affrontare la situazione analizzando caso per caso e assicurando comunque l'anonimato. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a tra poco. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News domani mattina presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio arriverà Isaia Sales per una lezione speciale che il Rotary Club Sala Consiglina Vallo di Diano preseduto da Pasquale Gentile ha voluto organizzare. Tema delle discussioni, le mafie in Italia, ma soprattutto meritocrazia e legalità. Il Rotary Club Sala Consiglina Vallo di Diano preseduto da Pasquale Gentile regalerà per domani, venerdì 18 novembre, agli studenti dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio diretto da Conalberto Rossi, una lezione particolare di grande spessore sul tema della meritocrazia e legalità. Domani mattina alle ore 10, presso l'auditorium dell'Istituto Sacco, il saggista e politico Isaia Sales, autore di Storia dell'Italia mafiosa, pubblicato dall'editore Rubettino, sarà ospite del dirigente scolastico Rossi e del presidente del Rotary Club Gentile per regalare agli studenti dell'Istituto Sant'Arsenese una lezione di storia e di attualità. Isaia Sales, infatti, insegna storia delle mafie all'Università Sororsola, ben in casa di Napoli, oltre ad essere stato anche in politica sottosegretario al Ministero del Tesoro nel primo governo Prodi. Raccontare e dimostrare come le mafie siano state e siano anche esse partecipi dell'autobiografia della nazione, questo il cuore del testo. Storia dell'Italia mafiosa rappresenta un'importante innovazione nello studio e nell'analisi dei fenomeni mafiosi in Italia. Per la prima volta viene ricostruita in maniera unitaria la storia della mafia, dell'Andrangheta e della Camorra, dalla nascita nel Mezzogiorno Borbonico allo sviluppo nell'Italia post-unitaria, al definitivo affermarsi in età repubblicana fino ai nostri giorni. Si è dinanzi ad un grande affresco storico che individua le ragioni di fondo di un modello criminale il cui successo dura ininterrottamente da 200 anni. Il volume rappresenta inoltre il contributo più significativo al superamento delle interpretazioni dominanti delle mafie come frutto esclusivo del Mezzogiorno, della sua retratezza economica e sociale, di una cultura omertosa e complice. Isaiah Sales dimostra come quel racconto, pressoché immutato da due secoli, continua a costituire un formidabile ostacolo alla compressione delle mafie e a rappresentare, nella migliore delle ipotesi, un colossale abbaglio. Pagini appassionanti svelano perché le mafie, nonostante gli ospici di tanti, non siano state sconfitte dalla modernità, anzi si siano trovate pienamente a loro agio dentro di esse, senza alcun imbarazzo. E sono ancora qui nell'Italia post-moderna di oggi, nel mondo di Google e dell'iPad, e non solo nel Mezzogiorno. L'incontro, con inizio alle ore 10, vedrà la presenza tra gli altri del preside del Sacco, Conalberto Rossi, del presidente del Rotary Club Sala Consiglina Vallo di Diano, l'avvocato Pasquale Gentile, e la relazione dell'onorevole Isaia Sales. A coordinare i lavori, il past president del Rotary Club Sala Consiglina Vallo di Diano, il dottor Aldo Rescinito. Dall'11 al 13 novembre scorso, al Palasele di Zebori, c'è stato il settimo mondiale di Pangrazzion, lo sport di combattimento. Al mondiale, che ha visto la presenza di attretti provenienti da ogni parte del mondo, hanno partecipato anche tre allievi dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, Trafficante Simone, che ha vinto una medaglia d'oro, due di argento e una di bronzo, Lupo Pasquale, che ha portato a casa una medaglia d'oro e una di bronzo, e Curcio Andrea, che si è giudicato ben due medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo. I ragazzi dell'Istituto hanno ricevuto i complimenti del dirigente scolastico Cono Alberto Rossi e del vicepreside Biagio De Luca. Proprio in merito alla settima edizione dei mondiali di Pangrazzio, l'agenzia Curcio Viaggi ha voluto ringraziare l'Istituto di Istruzione Superiore Besta Gloriosi di Battipaglia per l'importante contributo offerto nella realizzazione del campionato di grande valore internazionale. Ringraziamo l'Istituto Besta Gloriosi per la disponibilità, la fattiva collaborazione, per l'impegno profuso e la buona riuscita dello stage e per aver dato l'opportunità agli studenti di mettere in pratica ciò che diligentemente hanno espresso in fase teorica durante l'anno e le lezioni dei loro decenti, avvicinandoli così al mondo del lavoro. Altresì si ringraziano gli studenti per l'impegno e la disponibilità mostrata che gli ha fatto vivere un'esperienza molto significativa anche dal forte valore formativo e per aver svolto inoltre in maniera impeccabile i compiti assegnati per la puntualità, serietà e il forte spirito collaborativo. Cambiamo argomento, andiamo a Tegiano dove riprendono i lavori di restauro della Cappella della Dolorata finanziati dalla Diocesi di Tegiano Policastro e dalla Banca Montepruno. Grazie ai finanziamenti della Diocesi di Tegiano Policastro e della Banca Montepruno prosegue il lavoro di recupero della Cappella della Dolorata al Museo Diocesano di Tegiano. In questa fase finale i lavori di restauro sono indirizzati alla salvaguardia e alla restituzione fruitiva del sepolcro di inizio 400 realizzato in stucco policromo per ospitare il corpo del milite teggianese originario di Diano Bartolomeo Francone. I lavori realizzati sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza APAB di Salerno hanno portato finora al completo recupero della parte superiore dell'anticlovano con il restauro degli affreschi di inizio del Settecento sulle volte e sulle lunette i cui dipinti sono i sette dolori di Maria e sulla parete destra ovvero raffigurato San Filippo Benizi una rara iconografia presente a Tegiano. All'inizio della ripresa dei restauri si riannunciano interessanti riscoperte storiche e artistiche che vanno dall'iscrizione della cassa in caratteri gotici e scialbata da quasi 200 anni alle indicazioni del dossale del sepolcro in cui compaiono i nomi dei familiari del defunto Bartolomeo Francone. Gli interventi di salvaguardia del secondo lotto riusciranno a recuperare antiche cromie e dettagli plastici e figurativi finora non visibili riportando il monumento sepolcrale realizzato di imitazione delle tombe napoletane del XIV secolo ad una chiara lettura iconografica e storica. Anche l'aspetto architettonico della cappella sarà rivalutato con la riapertura per l'intero della monofora gotica che offre luce all'ambiente. i risultati del restauro che si concluderà per fine anno verranno riproposti in un convegno d'inizio gennaio al Museo Diocesano e confluiranno in un prossimo catalogo scientifico a cura della direzione museale. Ed ora il calcio mercoledì di Coppa Italia che ha visto impegnata l'ultima valdianese la pollese sconfitta 2 a 1 in casa dalla Gregoriana salutando così la competizione. Era l'ultima squadra valdianese in campo per la Coppa Italia di prima categoria in grado di passare il primo turno e accedere alla fase successiva ma si stampa contro il muro Gregoriana la marcia della pollese nella competizione del mercoledì sul sintetico del Cappelli di Caggiano la formazione di Augusto Gentile alza bandiera bianca dopo il 3 a 0 rimediato al centro sportivo di San Gregorio Magno due settimane fa diventava davvero complicato ribaltare il punteggio. nel match di ritorno però i gialloverdi hanno ceduto 2 a 1 alla formazione di Mister Menza e così accede alla fase successiva del torneo parte forte la pollese che alla primo affondo passa in vantaggio con Dorilia un gol che da speranza ai padroni di casa i quali avrebbero anche altre occasioni per farli ma le sciupano clamorosamente nella ripresa la Gregoriana entra con un piglio diverso Mister Menza alla settantesima mette in campo Troiano e Pucciariello che svoltano il match Pucciariello prima che in area di rigore batte il portiere da pochi passi dopo una corta respinta poi Troiano calce da fuori aree e complice il portiere avversario realizza il gol del definitivo 1 a 2 è stato un giovedì di Coppa anche per l'eccellenza campana in campo il prossimo avversario del Valdiano Laudax Cervinara che davanti al pubblico amico perde per 2 a 0 per mano dell'FC Sorrento con i costieri che così accedono al turno successivo della competizione e con lo sport termina il nostro TGI grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata Grazie a tutti